E di tre persone morte ed altre tre rimaste ferite il drammatico bilancio della tragedia stradale avvenuta all'alba di questa mattina lungo la statale Cento che collega Taranto e Bari. A perdere la vita nell'incidente che ha coinvolto un camion e due autovetture sarebbero un 49enne ed un 56enne di Gravina in Puglia rispettivamente conducente e passeggero di una Fiat Multipla ed un cinquantenne di La Terza che viaggiava invece a bordo di una Fiat Panda. Ancora non del tutto chiara la dinamica dello scontro avvenuto intorno alle sei e mezza nel tratto compreso tra Mottola e San Basilio. Dopo l'impatto il mezzo pesante sarebbe finito in una scarpata. Gravissime le condizioni dell'uomo alla guida. La Multipla avrebbe invece concluso la sua corsa contro il guardrail accartocciandosi mentre la Panda infine si sarebbe ribaltata. Hanno raggiunto il luogo dello scontro carabinieri, polizia, vigili del fuoco e le ambulanze degli operatori del 118 che hanno trasportato i tre feriti negli ospedali di Taranto e Castellaneta. Sul posto anche il personale dell'ANAS al lavoro per gestire la viabilità. La statale Cento è rimasta chiusa al traffico per alcune ore sino al completamento dei rilievi e alla rimozione dei mezzi incidentati.